Il mercato c'ero mio, questa è la pena compagni cari, la venditoria la soffrite e poi la soffrite con Montomarro. Perdi l'ortolano che c'hai, perdi il cappuccino o qualcuno, trovi e riprovati, apriti l'arriamento, la capacità di vedere la gente. L'uomo vinto dal vino, il povero il meschino si vuole la vita perdonata. Pagmattini, corri per la terra, la testa al baccamorti, prende e spogge lui e è morto. La storia non dici si scopre. La carta canta al lavatore mantegna, lascia le pili e le pili la polenca. La polenca ne scappa, sopra l'arriamento, i guacci del mantello con un guaccia. Gli occhi un brito e gli chiedono i bracci. Morse la guaccia e peggio dista mente. Sembra del manito! Se scopre un mullerino di questo è ilưu! Se sono i miei cieli, Poi se lo chiedono, l'arriamento ti fa trovare un cliente di maniera. E la storia è una pentina. con te il bovio e che ne vola con te l'aglio che ne vola fa di caldo ah tu mi hai una tricca tracca di l'imano se n'era un'altra giovane ci cassa che vola il pantalò se n'era un tot peppa ci cassa che vola il ragion ah tu mi hai una tricca tracca di l'imano come ha detto un re non si sa mai di giammare ha detto domani la torre, come ci mangiare? Dice come mangiare? No! Beh, io, come c'è la frichetta da mangiare, dai a mangiare! Ha detto, ma ti dici come ci mangiare? Non so neanche mangiare! Ma ti dici come ci mangi, sai come mangiare! Tutto la peggio a me, i neri, per andare in trete, i neri! E che sono i neri? Che sono i neri? Che sono i neri? Poi li pigli i retti, li posto i retti e li toglie! Che so? Oh! Voi non capisciate! E le neri? Le neri, le neri, le neri! Per la madonna a me non c'è! Quelli che stanno facendo! Ma da qua! Sapisci che cosa? Quelli che stanno dietro, le neri! Le neri che stanno dietro, la torre! O neri? I pesi che so? E come vanno a fare? E così non deve che sono, la torre di Iamm! Iamm! La torre! E poi qui ti metto sempre da so! E che so? La torre di Iamm! Torre di Iamm! E poi ci metto sempre da so! Torre di Iamm! E li metto tutti i retti, trinchi dai retti! E tirano la peggio! E tirano la peggio e corre! Quando è venuto fuori la peggio! I bici, la torre di Iamm! I bici! 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 Ma che so? I bici! 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 Tu non capisci tu! Non cuda! Non cuda! Non cuda! Vorrei sapere! Come ci chiamano tutti i costi! E questi non deve capire che con il ponte ci fanno! Ma che cazzo sono? Ma che vengono qua che non lo prende! Vengono qua! Vengono qua! Ti c'è un bici! Ma ci puoi vedere? C'è una madre genuia che ha detto! E tutti i bici! Vole sapere che sono! E i bici che stanno da dentro! E si stanno da dentro! Qui stanno messo in un attacco sulla sua volta! Dua caccia che stanno i bici? I bici! Stanno in un'unità! Onde è sta andando? Iniziamo con il paese a dire. Beh, se avrei avuto un tempo per parlare, se ti faccio vedere come ci fanno il paese. Ehi, che giorno! Mi dimenticiamo come sono tutti i panetti. Allora, a ferro io. A ferro. Se so a ferro. A ferro e se so. A ferro e se so. A ferro di rollo. Non c'è più. La si riempa. E i panetti. Ma io adesso è andato a un po' di rollo. E che fare! E le tenono bene, e piole li mandano a accogliere. E a me dopo da? Ma i peggio e le buttano i resta. E le buttano a mezzo. E le buttano i resta. E che fa poi? Più爾 non è da volte. E poi usavate il caffè? Cosa ho capito? Ci muore, ci muore, ci muore. Che legge c'è da muovere? Se non lo sai fare, sai che ci muore. Posso fare una domanda? Che cosa? Secondo te che ne ha giro? Usare la terra? C'è muore. E usare le fette? Eh, non cammino la terra superma. Perché noi siamo venuti, da che siamo venuti siamo sempre a mezzanere. Ma adesso ti dice che usare la terra usare le fette? Sì, ma io ti rupassi, comunque credo. Tutto qua. E hanno queste vacanze cinziate vacanze? Finso a fesso la vacanze. Scenze e grabelle. Eh, non l'ha mai... l'ha mai... l'ha mai detto che l'ha mai detto. Aveva avuto il giro. Ha detto che si è proprio un valore ma. Eh, ha fatto un giro. Eh, madonna mia. Eh, che sai? Ma tu mai, tu mai. Eh, non so il cammino. Come ha detto che l'ha mai detto? Voi, che l'ha detto che l'ha detto. E' quello che è? 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 E' una bella città. Come ha detto che l'ha detto? Allora usare queste fette la terra a giro. Che cosa? Allora usare una gira. E' un peccante d'oro. La terra a giro. E' usare queste fette. E' usare queste fette. E' usare queste fette. E' come fa vedere che ce l'ho usato? Poi di mezz'ora, allora non arrivo. Adesso? Vabbè. E' da queste fette. Tanta salute, domande che si è quella d'oro. D'oroe. D'oroe. D'oroe.